Non c'è più tempo per eventuali apparentamenti, ormai sono scaduti i termini per siglare alleanze in vista dei ballottaggi delle elezioni amministrative. Cinque erano i comuni abruzzesi al voto con più di 15.000 abitanti e per rinnovare il Consiglio Comunale in tutti e cinque sarà necessario il secondo turno. L'apparentamento più scontato è quello tra PD e 5 Stelle, ricalcando l'alleanza a livello nazionale. Nei giorni scorsi il segretario regionale dei DEM, FINA, aveva lanciato l'appello all'unità, appello che è caduto nel vuoto ovunque tranne che a Lanciano. A basto ad esempio il candidato del centrodestra Gian Giacomo ha trovato l'accordo con la terza classificata al primo turno, Notaro, anche se la scelta non è stata condivisa da parte della coalizione di quest'ultima, mentre nulla da fare tra il sindaco uscente Menna e la grillina Carinci. Il candidato del centrosinistra, primo al primo turno, correrà da solo. Nessun accordo tra il Movimento 5 Stelle vasto e il centrosinistra. I nostri elettori il 17 ottobre saranno liberi di votare chi vogliono e saranno anche liberi di decidere di non votare affatto. A Lanciano invece l'unico apparentamento ufficiale, quello tra il candidato del centrosinistra Marongiu e Furia dei 5 Stelle, il quale al primo turno aveva ottenuto circa il 5% delle preferenze con 1019 voti. Paolini, il candidato che la settimana scorsa non è riuscito a conquistare la poltrona di sindaco per una manciata di voti, rimarrà da solo, forte dell'ampia coalizione di centrodestra. A Francavilla al Mare l'accordo PD 5 Stelle non è stato ufficializzato, ma la candidata del centrosinistra russo ha dichiarato che avrà comunque il sostegno dei pentastellati. Sul fronte Angelucci invece nessun nuovo ingresso sul carro del centrodestra. Non ci sono stati apparentamenti, quindi abbiamo il Movimento 5 Stelle ha dichiarato che aderirà, insomma dopo una lunga chiacchierata con me, aderirà alla nostra, insomma sosterrà noi anche proprio per una condivisione di progetti. Per il ballottaggio non era possibile fare apparentamenti tecnici e quindi abbiamo parlato con tutti e tutti quelli che sono più di aria, diciamo, moderata, di centro e anche di centrodestra, ma devo dire anche qualcuno più spostato a sinistra, diciamo che hanno dato la loro disponibilità. A Roseto degli Abruzzi nessuna novità e la sfida sarà tra il candidato civico Nunez, che parte con oltre 8 punti percentuali di vantaggio, e quello del centrodestra di Marco, senza la partecipazione dei candidati sindaco sconfitti al primo turno. A Sulmona il problema nemmeno si pone. Di Piero, candidato di una coalizione che già comprende 5 Stelle e centrosinistra, corre dritto verso Palazzo di Città, a seguito della clamorosa rinuncia dello sfidante civico Gerosolimo. Tutte le partite, però, sono ancora aperte. Al ballottaggio si riparte 0-0, palla al centro, e potrebbero esserci sorprendenti i ribaltoni. A seguito delle alleanze, infatti, la somma dei voti ottenuti al primo turno è assolutamente non scontata. Ora è tutto nelle mani di coloro che si recheranno alle urne, i quali hanno ancora una settimana di tempo per poter decidere chi sarà il prossimo sindaco.